Riverisco lor signori, sono il bagliaccio della corte, nella messa della casa di un porcaro dell'Arconte, e ricordo lor signori che per certi casi strani, quello che diventa oggi non ritornerà domani. Calcolando si conteggia che la roba va al ganale, ma la mano che la porta è il più importante del guadagno, se la roba sono i soldi, anche i soldi sono la roba, e venare un'astrazione della fabbrica di merci. Ora e vola il nostro tempo, va veloce come il vento, come il vento dell'Oriente che preannuncia un cambiamento, certo non può cambiare niente, come può cambiare tutto, se la pianta della vita ha gettato un altro frutto. Quale vola il nostro tempo, va veloce come il vento, se una donna si è negata che abbia in sé un ripensamento, se campassimo in eterno si può chiedere cent'anni, ma poiché siamo già morti consoliamo i nostri affanni. Riverisco lor signori, sono il pagliaccio della corte, e la mensa della casa di un portaro dell'arconte, C'è chi dice che son matto, che mi chiama menestrello, sono invece, sono il paggio, il buffone del castello. Dino. Dino. Grazie.